Al terzo posto, con punti 13 e 900, prego Francesco Rovizzi, Assessore allo Sport di Arezzo, Pai di Rezzo. Consegna un prezzo alla seconda classificata Paolo Tratesi, consigliere comitato regionale toscana, con punti 14 e 150, Lideo Giada. Premia la campionessa nazionale di specialità Alcese, l'avvocato Grazio Cialdito, consigliere nazionale della Federazione Nassi-Mascaia, con punti 14 e 450, Patazzi Valentini. Grazie a tutti.